Vincolo del doppio mandato anche per il CNF lo afferma il Tribunale di Roma con una ordinanza di 30 pagine depositate nella giornata di ieri. Ne parliamo con Giovanni Stefani che è esponente dello CF, dell'organismo congressuale forense e anche presidente del COA di Bari. Allora Presidente, regole uguali a quelle delle elezioni locali, che cosa succederà ora? Beh, innanzitutto oggi abbiamo un contributo anche da parte del giudice di merito sulla vicenda e questo credo che sia l'aspetto più importante. Sebbene in una fase cautelare a cui necessariamente dovrà seguire la fase di merito, però la ordinanza che consta di una trentina di pagine è ben motivata e ricca di spunti. Prendiamo atto che è stato per un verso affermato che il limite del doppio mandato vale anche per l'istituzione centrale, quindi non soltanto per gli ordini territoriali. Allo stesso tempo prendiamo atto che c'è, io qui mi permetto di dire, una correzione, forse ad uno sbarione dell'ordinanza reclamata, allorquando estendeva al Consiglio nazionale forense la regola dello scorrimento, non avendo piena consapevolezza di quello che è il sistema elettorale dei componenti del Consiglio nazionale forense. Certamente, io credo, se ne parlerà la prossima assemblea dell'organismo congressuale forense, che è, come voi sapete bene, fissata per i prossimi 20 e 21, quindi dopo domani sostanzialmente siamo vicinissimi, se ne parlerà. L'organismo congressuale forense su questo tema ha sempre assunto una posizione di estrema correttezza, di estrema prudenza e di estremo equilibrio, anche istituzionale. Nel momento in cui ha chiesto fin dai primordi, quindi dopo la sentenza delle sezioni unite della Suprema Corte, ben nota, che fosse fatta chiarezza. Sono intervenute delle norme interpretative che hanno fatto chiarezza, è intervenuta poi l'estate scorsa la Corte Costituzionale a dare ulteriori contributi sulla tenuta di legittimità rispetto alle norme costituzionali della norma sul doppio mandato. Oggi abbiamo un ulteriore contributo che dice che tale limite del doppio mandato si applica anche al Consiglio Nazionale Forense sulla scorta di un ragionamento di equiparazione delle norme a tutti gli organismi di una stessa compagine professionale. Il tema di fondo è questo. Ci saranno degli equilibri che traballeranno o tutto secondo lei rimarrà come prima? No, allora io certamente mi auguro che non traballi nulla, perché sono quello che fin dal primo momento ha detto che comunque le istituzioni e tutte le componenti dell'associatura dell'avvocatura vanno tenute in sicurezza. C'è però un problema, c'è sicuramente una questione di fondo che va affrontata e così come, ripeto, ha detto l'organismo congressuale Forense lo suo deliberato di luglio scorso, ci auguriamo che il senso di responsabilità di tutti prevalga su altre valutazioni. E il momento è quello per cui appunto è la responsabilità di ciascuno che deve prevalere, perché questa è una considerazione che voglio fare anche perché ho la certezza della condivisione da parte dell'organismo di cui sono componente l'ufficio di coordinamento, noi teniamo alla solidità delle componenti istituzionali dell'avvocatura e quindi sono certo che tutti i soggetti interessati stiano già facendo profonda riflessione, sicuramente continueranno a farla e arriveranno, approderanno alle giuste decisioni. Perfetto Presidente, è stato chiarissimo. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi come sempre.